Ci spostiamo dal centro e dal d'America. Dal centro e dal d'America siamo molto lontani dal mare. Essendo lontani dal mare farà più... ...carbando! Ma... ...esatto. Un carro! Bravissimo! Un carro! Che cos'hanno al vostro delle foglie di carro? Le di brancine! Perché hanno le spine? Non lo vanno a fare. Brava! ...per mangiare il cactus per prendere l'acqua di cilindro. Ma se lui mastica tutto il cactus, cosa succede al cactus? Si fuma! Si spasca! Si fuma! Si fuma! In queste zone molto a nord, ok? Perché comunque fa cacca! Fa un po' cacca! Fa cacca! Un po' cacca! Però c'è un'prima mite, diciamo! Si sta bene! Mentre l'inverno, siccome farebbe troppo freddo per vivere, migrano e vengono a passare dove lascia l'inverno e non resta l'inverno e fa da noi! Che fa piccato! Così no! Se per esempio il merlo si appoggiasse sul ramo sottile, cacca! Invece si appoggiano su rami più spessi, merli, facendo il nido più grandi, perché sono incendi più grandi! Invece ci sono anche alcuni incendi che si evitano nel sottoposto e si evitano appunto per non farti mangiare. Grazie per la visione!